pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventesima domenica meditiamo sul meraviglioso incontro tra gesù e la cananea che come suggerito da padre canta la messa potremmo intitolare come un giorno una donna e spugno gesù con la sua fede noi metteremo in luce in particolare la dinamica della fede di questa donna che ci è proposta come modello e che anche immagine della chiesa di noi che veniamo dal paganesimo non dal popolo di israele tenete conto che di per sé questo testo ha come centro l'universalità della salvezza cioè la salvezza in cristo è offerta a tutti e non ci sono barriere razziali o culturali ognuno può accogliere la salvezza credendo in lui e lui è per tutti andiamo al testo gesù è in viaggio ha moltiplicato i pani ha camminato sulle acque e ora arriva dalle parti di tiro e sidone in terra pagana cioè dei non giudei oggi tiro e saida del libano e gli supera i confini ufficiali di israele anticipando in un certo senso la missione della chiesa rivelando chiaramente che in dio non ci sono confini a gesù viene incontro una donna cananea discendente di quel popolo che abitava la palestina prima degli ebrei che probabilmente aveva sentito parlare di gesù e costei si mette a gridare abbi pietà di me signore figlio di davide mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio abbi pietà di me è la preghiera fondamentale umile significa abimi a cuore fammi grazia la cananea non pretende non accampa diritti chiede il dono a colui che tutto è solo dono riconoscendo in lui il signore e il messia questa figlia malata indemoniata in fondo rappresenta ogni uomo prigioniero del male e della menzogna ed è significativo che siamo in terra pagana dove non si conosce il signore come a dire meno c'è dio nella nostra vita più siamo facili prede delle suggestioni del maligno che tende a legarci come dei salami allora la donna chiede ma ecco la prima doccia fredda gesù non le rivolge nemmeno una parola stupisce a prima vista questo comportamento saremo tentati di leggere questo silenzio di gesù come indifferenza o peggio come ostilità durezza spesso così leggiamo i silenzi di dio nella nostra vita ma è veramente così i discepoli intervengono e chiedono a gesù di esaudirla non tanto per carità ma quanto per togliersi il fastidio esaudiscila non vedi come ci grida dietro vorrebbero risolvere lì per lì il problema ed ecco la risposta di gesù non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di israele cioè la mia missione voleva dire gesù è rivolta anzitutto al popolo di israele sarà poi il popolo di israele coloro che crederanno la chiesa a portare l'annunzio agli altri popoli gesù si è rivolto al popolo di israele che lungamente aveva preparato alla sua venuta capiamo dunque che dietro l'iniziale di niego di gesù c'è la fedeltà alla missione che il padre gli ha affidato e che questo silenzio non è indifferenza tant'è che dopo esaudirà la donna potremmo dire che il silenzio è lo strumento che dio usa per verificare i sentimenti dell'uomo e per creare le giuste disposizioni del cuore per purificarle e accrescerle va ricordato con chiarezza che non possiamo ridurre e intendere la preghiera come una sorta di self service religioso a una sorta di distributore dove io inserisco la moneta della preghiera e dio mi ottiene la lattina della grazia richiesta non funziona così a dio si può gridare lo si può invocare lo si può pregare con lui si può piangere ci si può pure sfogare ma non gli si possono imporre i nostri tempi e le nostre condizioni lui solo sa ciò che davvero bene per noi e la nostra preghiera richiede sempre uno spazio di purificazione della fede ogni dono va chiesto e atteso con umiltà solo il signore sa qual è il vero bene per noi a noi chiede di fidarci di lui inoltre nel dare questa risposta ai suoi discepoli gesù li vuol far crescere e con loro anche a noi aiutandoci a vedere qual è il vero cuore del problema cioè per lui non è importante lì per lì esaudirci e darci quel che chiediamo se no piantiamo i piedi e soffriamo versione genitori che davanti ai capricci dei figli subito li esaudiscono in modo tale da togliersi il fastidio ciò che conta per lui davvero profondamente è che noi entriamo in una relazione sempre più profonda con lui che impariamo a fidarci di lui e che noi maturiamo anche nelle prove e nelle difficoltà dio potremmo dire non ha fretta dio ha un orario che prevede momenti tappe collaborazione scadenze che solo lui conosce chissà forse il signore nel suo cuore sperava nell'insistenza di questa donna in una sorta di gara dove alle richieste sempre più intense della donna gesù rispondeva alzando sempre di più l'asticella della fiducia che le chiedeva e la donna non si arrende signore ti prego aiutami ed ecco una terza doccia fredda da parte di gesù non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini figli sono i discendenti di abramo cani erano chiamati pagani termine che gesù addolcisce dunque le sta motivando il suo no dovuto ad un fatto di giustizia chissà forse noi ce ne saremmo andati già scoraggiati arresi delusi e invece questa donna non demorde padre canta la messa diceva è impegnata in una specie di gara di salto in alto avete mai osservato cosa succede nella specialità atletica del salto in alto a ogni salto riuscito l'asticella viene elevata di qualche centimetro sempre più in alto fin tanto che c'è qualcuno che riesce a superarla nella fede avviene la stessa cosa a ogni difficoltà che superiamo dio a volte alza l'asticella cioè aumenta l'esigenza ci chiede un atto di fede ancora più difficile così ha fatto gesù con la donna ed ecco il salto finale della cananea è vero signore ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni questa donna come vedete riconosce la sua condizione non accampa meriti non avanza pretese ma con tanta umiltà bussa al cuore del signore bussa al suo cuore per il bene di sua figlia non demorde sta al gioco e se da una parte gesù la spinge oltre lei con la sua fiducia umile e la sua insistenza spinge oltre il signore che potremmo dire tripudie di gioia come farebbe un tifoso dopo un salto da record mondiale dell'atleta del cuore donna davvero grande la tua fede ti sia fatto come desideri in quell'istante sua figlia fu guarita ma è questo il miracolo più grande possiamo dire di no il vangelo ne registra un altro questa donna cananea è diventata una credente una delle prime provenienti dal paganesimo una pioniera della fede cristiana verso il suo popolo una nostra antenata quante cose ci insegna questa storia pensiamoci bene se gesù l'avesse accontentata subito questa donna avrebbe conseguito la liberazione della figlia avrebbe vissuto lì per lì con qualche fatica in meno ma forse tutto sarebbe finito lì e alla fine probabilmente mamma e figlia sarebbero morte senza lasciar traccia di sé invece così tra un diniego e un altro tra un'insistenza e l'altra la sua fede è cresciuta si è purificata fino a strappare a gesù quel grido pieno di entusiasmo possiamo dire che ora sappiamo che cosa c'era nel cuore di gesù egli diciamo così quasi soffriva nell'opporre il rifiuto trepidava davanti al rischio che questa donna desistesse sapeva che non poteva tendere troppo l'arco perché non si spezzasse ma che l'arco andava comunque teso se no la freccia della fede non sarebbe scoccata era un'incognita anche per gesù l'incognita della libertà umana gesù possiamo dire che ha sperato che la fede di questa donna crescesse ecco perché ha tripudiato di gioia e come se avessero vinto in due e continuava padre raniero dicendo dunque dio ascolta sempre anche quando fa finta di niente e il suo ascoltare è già un soccorrere sì miei cari qui c'è un punto preziosissimo ritardando nell'esaudirci dio fa sì che il nostro desiderio cresca che l'oggetto della nostra preghiera si elevi si purifichi così che dalle cose materiali passiamo a quelle spirituali dalle cose temporali a quelle eterne dalle piccole alle grandi vedete tante volte cosa ci accade che noi cerchiamo il signore e a volte non ci esaudisce semplicemente perché aveva in mente altro altre volte ci esaudisce solo dopo tempo altre volte magari dopo molto tempo e molta insistenza comunque non ci ha esaudito ma è maturata e si è accresciuta la nostra relazione con lui infatti non dobbiamo dimenticare che quando cerchiamo il signore lui ci dà sempre di più di ciò che chiediamo perché ci dà sempre se stesso e lui è profondamente ciò di cui abbiamo bisogno ciò di cui abbiamo più bisogno non sono tanto le cose che chiediamo ma che lui sia noi che noi siamo uniti a lui e allora avremo la luce la forza l'amore la pace necessari per affrontare ogni cosa concludo sapete chi era un grande ammiratore della cananea sant'agostino le ha dedicato ben tre discorsi parlando della necessità di pregare senza stancarsi mai forse gli ricordava la sua mamma santa monica che per anni aveva pregato per la conversione del figlio senza mai arrendersi e per la conversione del marito del quale ottenne il battesimo in punto di morte non si era lasciata scoraggiare da nessun insuccesso aveva inseguito il figlio fino in italia e a milano fino a che lo vide non solo convertito ma addirittura vescovo in uno dei suoi discorsi sant'agostino ricorda le parole di cristo dicendo chiedete vi sarà dato cercate troverete bussate vi sarà aperto e conclude dicendo così fece la cananea chiese cercò bussò alla porta e ricevette facciamo anche noi lo stesso e anche a noi sarà aperto che il buon dio vi benedica tutti pace e bene